L'ora esatta è offerta da Dai più valore alla tua casa Vieni a visitare lo showroom di Edil 2000 Cambieremo volto alla tua casa Con le migliori firme di pavimenti, rivestimenti, sanitari, arredobagno, rubinetterie Scoprirai le nostre promozioni, i servizi, la consulenza E da non perdere il reparto arredo giardino con i nuovi arrivi di barbecue Edil 2000 per risparmiare davvero Strada per Serravalle a Novi Ligure Benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale In apertura una buona notizia per la sanità piemontese Perché si dice può ripartire a questo punto Dopo il duro lavoro di riforma compiuto dalla regione Roma ha dato il via libera a nuove assunzioni Sbloccando il turnover e liberando 900 milioni di euro Che serviranno per pagare i fornitori I 900 milioni, spiega l'assessore Antonio Saitta Arriveranno entro due settimane Le assunzioni non saranno a pioggia Ma destinate ad abbattere le liste d'attesa La sanità del Piemonte è tornata credibile agli occhi del governo Questo secondo il commento del governatore Chiamparino Profondo cordoglio non solo in Piemonte Ma nell'intero mondo imprenditoriale Ha suscitato la tragica morte dell'industriale Guido Ghisolfi Sono tantissimi i messaggi di dolore inviati alla consorte Signora Ivana Tanzi Tra cui quello del Presidente del Consiglio Di Ministri e Parlamentari del Governo Ancora sindaci e industriali italiani ed esteri Ai funerali che saranno celebrati sabato prossimo Alle ore 14.30 in Duomo a Tortona Si è preso che dovrebbe partecipare anche il Presidente Matteo Renzi In caso invece di suoi impegni Il governo sarà rappresentato con molta probabilità Dal sottosegretario del Rio Sul suicidio la Procura della Repubblica di Alessandria Ha chiuso un'inchiesta Tra le cause più probabili trova sempre più conferma Quella di un forte stato depressivo Sentiamo nel servizio di Franco Capone Si terranno sabato prossimo alle ore 14.30 Nel Duomo di Tortona I funerali dell'ingegnere Guido Ghisolfi 52 anni Vicepresidente del gruppo chimico Il secondo in Italia Suicidatosi il martedì scorso In una stradina di campagna Alla periferia di Carbonara-Scrivia La Procura della Repubblica A conclusione delle indagini in merito Ha rilasciato il nulla osta Per il rito funebre Che come abbiamo detto Si terrà sabato prossimo alle ore 14.30 Mentre venerdì sera alle ore 21 Sembra in Duomo a Tortona Verrà recitato il rosario Al rito religioso Con molta probabilità sarà presente In pensione del Consiglio Matteo Renzi Il quale ieri Ha fatto pervenire alla moglie L'ingegnere Ghisolfi La signora Tanzi Un messaggio di solidarietà Guido per me Ha scritto E' sempre stato un amico Appassionato e sincero Ma se per impegni di lavoro Il Presidente del Consiglio Che ora si trova in Russia Non potrà essere presente a Tortona Il governo sarà rappresentato Dal sottosegretario Alla Presidenza del Consiglio Graziano del Rio Sul piano delle indagini Effettuate dai carabinieri Il Comando Provinciale di Alessandria Il sostituto procuratore della Repubblica Giancarlo Bona Dopo aver esaminato attentamente Ogni traccia Di una possibile spiegazione All'estremo gesto E' giunto alla conclusione Che a spingere l'ingegnere Guido Ghisolfi ad uccidersi Con un colpo di fucile in faccia Si è stato sprigionato Dalla forte depressione In cui l'imprenditore Era caduto negli ultimi tempi E che tanto aveva preoccupato la famiglia Un vero e proprio allarme Sulla corruzione in aumento E' stato lanciato oggi Dal Presidente della Corte dei Conti Del Piemonte Giovanni Coppola In occasione dell'inaugurazione Dell'anno giudiziario contabile Il Presidente ha detto Assistiamo oggi a un incontrollato Aumento della corruzione A tutti i livelli E verifichiamo un'evasione fiscale Che nonostante gli sforzi Per combatterla Costituisce un dato di fatto incontestabile E dalle dimensioni allarmanti E in effetti Per rimanere in tema E confermare quanto appena detto Parliamo di evasione fiscale Per 5 anni consecutivi Un imprenditore edile Ha evaso allo Stato Mezzo milione di euro Lo hanno accertato Le fiamme gialle di Alessandria A conclusione di una verifica Durata mesi E incrociando i dati relativi Alla frammentare documentazione contabile Rivenuta in azienda Che ha permesso di accertare Che l'imprenditore edile Alessandrino Non ha dichiarato appunto Reddito per 540 mila euro E di avere evaso IVA Per oltre 90 mila euro Il titolare dell'impresa È stato denunciato Per il reato di occultamento E distruzione Della documentazione contabile E per omessa dichiarazione Dei redditi E adesso Cambiamo argomento Parliamo di Un cronaca giudiziaria Il proprietario di un cane Che abbaiava troppo Di notte e di giorno È stato condannato A sei mesi di reclusione Pena sospesa E risarcimento Per danni Particolari comunque Nel servizio di Emma Camagna I rapporti tra vicini di casa Spesso sono tutt'altro Che idilliaci Quando ci si mette Di mezzo un cane Che abbaia Magari un po' troppo Sovente diventano tesi E a volte si finisce Anche in tribunale È successo a Massimiliano Franchina 45enne di lobby Processato per vari reati Ai danni del vicino Giancarlo Rossi Da alcuni è stato assolto Per altri Minacce e violazione Di domicilio Condannato a sei mesi E a risarcire Rossi A favore del quale Deve versare subito Una provvisionale Di 1500 euro Che saranno devoluti In beneficenza L'imputato Che in passato Ha patteggiato sei mesi Per lesione E violazione di domicilio Sempre nei confronti Del vicino È sotto accusa Anche per stalking In quanto avrebbe tenuto Un comportamento ossessivo Nei confronti di Rossi Sempre a motivo del cane Il processo Ora concluso Era stato bloccato Per consentire alle parti Di costruire un passaggio Fra le due proprietà Permettendo a Franchina Di andare a casa propria Senza passare Da quella di Rossi Così da evitare Eventualmente Screzzi e discussioni Ma l'imputato Non ha mai voluto Realizzare l'opera Si arriverà una tregua Franchina ha negato Tutte le accuse Comprese quella Di aver aggredito A pugni E calci rossi Il quale invece Le ha confermate tutte Sempre cronaca Un servizio di controllo Un servizio di controllo Per combattere furti E scippi Durante il giorno Del mercato I due finiti Nel mirino della polizia Sono stati fermati E condotti in questura Per l'arcangelo Seminatore Scattato un provvedimento Di aggramamento Della misura cautelare In carcere Dove poco dopo È stato accompagnato È caduto Nella rete Tesa dalla polizia Il pericoloso Ladro seriale Autore di numerosi furti In appartamenti Negozi e boutique Per ultimo Quello ai danni Del negozio strada Di via Piacenza D'Alessandria Ma la sua specialità Erano i furti Di biciclette E proprio mentre Percorreva in bici Con una bici Rubata via Milazzo Andrea Dellernia Di 42 anni Si è visto scattare Le manette ai polsi Dopo l'ennesimo Tentato furto In un appartamento Andrea Dellernia È conosciuto Come ladro seriale Perché da oltre 15 anni Entra ed esce Dal carcere Per reati diversi Adesso ci spostiamo A Novi Ligure Parliamo invece Di un argomento Più leggero Iniziative Per la festa Della donna Sentiamo da Enrico Maria L'intento È quello Di coinvolgere Tutta la città Chiedendo ai cittadini Di indossare Un accessorio O un indumento giallo E agli esercizi Commerciali Di esporre Una coccarda gialla O un mazzo Di mimose Sabato 7 marzo Novi Ligure Festeggerà La giornata Della donna Con una speciale Manifestazione Organizzata Dall'assessorato Agli affari sociali In collaborazione Con la consulta Comunale Pari opportunità L'evento Dal titolo emblematico Aspettando l'8 marzo Città in giallo Contro la violenza Vuole ripercorrere Gli ultimi 60 anni Della storia Delle donne italiane Attraverso l'arte E la cultura In piazza In piazza delle piane Dalle 16 alle 18 Il centro arte pieve E l'associazione Amici dell'arte Esporranno Una serie di pannelli Rappresentativi Dei decenni Che vanno Dagli anni 50 Ai giorni nostri La compagnia teatrale I pochi Racconterà lo stesso periodo Attraverso alcune letture La manifestazione Si sposterà poi Presso il centro fieristico Dolci terre di Novi Dove alle 19.30 In programma La pericena A cui seguirà Uno spettacolo teatrale Con Andrea Robiano E Laura Gualtieri Con la collaborazione Dei ragazzi Del liceo Amaldi Di Novi E le musiche Di Andrea Dallavalle Il problema Della violenza Di genere È culturale Ha spiegato La presidente Dalla consulta Enrica Bosio E solo attraverso Un cambiamento culturale Si può sperare Di mettere un freno Agli abusi Sulle donne Ma per questo Ci vuole un cambio Di prospettiva Cioè affrontare Il problema Dal punto di vista Maschile Fare in modo Che anche gli uomini Inizino a parlare Di violenza di genere Da questo punto di vista Il centro Medea Antiviolenza È un punto fermo Sul territorio E sarà presente Durante tutta la giornata Con dei pliani informativi Previsto anche Un momento istituzionale Rivolto ai 31 comuni Che fanno parte Del distretto sanitario L'incontro Che si terrà Sabato alle 15 Nel salone di rappresentanza Del palazzo municipale Servirà A formalizzare L'impegno A sottoscrivere Un documento Per attivare E completare Tutte quelle procedure A tutela Delle pari opportunità Di genere Dal lavoro A rispetto delle norme Per la presenza Delle donne Nei consigli di amministrazione Degli enti partecipati Dalle iniziative Contro la violenza A quelle a favore Della dignità Integrità fisica e psicologica E per l'uguaglianza Municipio a Castelletto A Castelletto d'Orba Tema dell'incontro Donne, diritti e lavoro Cui parteciperanno Gianna Pentenero Assessore regionale Lavoro e l'istruzione Franca Repetto Vicepresidente Del Consorzio Servizi Sociali De Lovadese E l'insegnante Sabrina Caneva Coordinerà la serata Il senatore Federico Fornardo Sempre In Lovadese Il turismo E più a portata Di computer Per tutti Infatti tutti coloro Che vorranno Prenotare O sebbene di più Della zona Adesso hanno a disposizione Un sito rinnovato Dello IAT Informazione e coaglianza turistica Sentiamo nel servizio Di Bruno Mattana Si potrebbe dire Che nasce da un censimento Il futuro del turismo De Lovadese Da oggi basta qualche click Per avviare una ricerca Facile e completa E chiunque potrà avere L'Alto Monferrato Lovadese A portata di analisi E osservazione Naturalmente Tutto questo riguarda Nel territorio Le aziende agricole Vitivinicole Alberghi Hotel Agriturismi Bed and breakfast Case vacanze Fitacamere Ostelli Ristoranti Tipicità gastronomiche E quant'altro Rientra nel settore Dell'offerta turistica Che il territorio offre Questo progetto Di pubblica utilità È legato strettamente Al nuovo sito internet Completamente rinnovato Dello IAT Informazione e accoglienza turistica Del comune di Ovada Che è stato presentato Ufficialmente In comune A rendere possibile Questa nuova strada Da percorrere È stato un censimento Organizzato dalla cooperativa Sociale Marco Ondiro Che ha messo in campo Due giovani operatrici Con competenze specifiche Assunte Per svolgere Questo non facile compito Sono stati mesi Di attività In certe occasioni Frenetica Sottolinea Assessore del turismo Giacomo Pastorino Per portare a termine Un assaggio Un assaggio Un assaggio 67 sono le strutture ricettive 61 le aziende agricole Produttrici di vino A cui vanno aggiunte Anche 42 schede Dedicate a Dovada Dove emergono Ristoranti Alberghi Bed and Breakfast Più un ulteriore elenco Dove sono indicati Eventi e manifestazioni Di richiamo Che si svolgono Nel territorio Il sito è consultabile Anche in lingua inglese Ed a tablet E smartphone Grande concerto Al cinema teatro Alessandrino Dove si è esibito Manuel Barrueco Uno dei più grandi Chitarristi Di chitarra classica Al mondo Sentiamo da Cattie Porcel Due ore di arpeggi Con la chitarra Per riempire Il teatro alessandrino Di grande musica classica Giacca e cravatta Occhiali sul naso Capelli brizzolati Mossi Manuel Barrueco È salito sul palco Senza dire una parola Ma lasciando che fossero Solo le note Il suo talento I veri protagonisti Della serata Si è trattato Di un avvenimento Eccezionale Per la città di Alessandria Reso possibile Dal conservatorio Vivaldi Ed è un'amicizia Con l'artista E Lucio Dosso Uno tra gli insegnanti Di chitarra classica Della scuola Barrueco Ha eseguito Un variegato repertorio Di compositori classici Per poi cimentarsi Con una musica Più latina Dove le sue dita Hanno potuto spaziare Sulla tastiera Della chitarra Tanto da sembrare a volte Le zampe di un ragno Che si muovevano All'impazzata Un pubblico Selezionato e attento Con in prima fila Il presidente Del conservatorio Roberto Livraghi L'ex presidente Giacomo Guala E la direttrice Angela Colombo Hanno applaudito L'artista Che ha concesso Trebis Nato a Santiago De Cuba Il suo amore Per la chitarra Nasce e cresce Con lui A otto anni Si iscrive al conservatorio Per continuare Gli studi Negli Stati Uniti Dove si trasferisce Con la famiglia Da lì in avanti La sua carriera Segue un crescendo Che possiamo definire Rossiniano Collezionando titoli E riconoscimenti In tutto il mondo Si esibisce Nelle più importanti Capitali della musica New York Chicago Londra Hong Kong Seul Milano Roma Tanto per citarne alcuni Baruejo Ha suonato Con l'orchestra Della BBC Con la Royal Philharmonic Orchestra Madrid E con un'altra Miria di ensemble Acclamati in tutto il pianeta Una dozzina I suoi dischi all'attivo Con quello dal titolo Cuba Definita uno straordinario Risultato musicale Dal San Francisco Chronicle E molti Anche i Grammy Ritirati Di carattere Anche le sue Collaborazioni Con artisti Del calibro Di Plassido Domingo Del jazzista Aldi Meola Steve Morse Dei Deep Purple Andy Summers Dei Police A sottolineare La sua versatilità Insomma Una vera leggenda Vivente Un seducente Chitarrista Di tecnica E musicalità Tra i più straordinari Al mondo E adesso E adesso i tre minuti Con Questa volta Parliamo di viabilità Provinciale Maurizio Silvestri Si è interessato Del tratto di strada Che porta Carpeneto Chiusa al traffico Per alcuni chilometri Per smottamenti E frane Ma anche La nota È sulla segnaletica Stradale Vediamo i tre minuti Con Allora Questi tre minuti Oggi li dedichiamo Nella zona Dell'Ovadese Allora Voi vedete qua C'è un cartello Con scritto Carpeneto 5 chilometri Però Vediamo qui Un cartello Subito dopo Questa indicazione Con un avviso Che dice Direzione Verso Carpeneto Strada Chiusa Strada chiusa Diciamo per Una frana Che È avvenuta A dicembre Diceviamo tantissime Di segnalazioni Da tutti voi Di queste strade Soprattutto di queste segnaletiche Che non funzionano Adesso vi facciamo vedere Che anche noi Abbiamo trovato Lo stesso problema Perché Noi abbiamo detto Non andiamo a Carpeneto Allora Ci spostiamo Andiamo nella strada Di San Lorenzo In Villa Bottero E invece Adesso vedete Cosa succede Ed eccoci qui Quindi noi adesso Ci stiamo dirigendo Nella strada Che dovrebbe condurre A Carpeneto E noi A un certo punto Di questa strada Dovremmo trovare Questa sbarra Questa non Eccolo qua Ecco qui Abbiamo la sbarra Vedete Benissimo Allora Chiediamo allo stautista Dobbiamo avvicinarsi Ecco Fermati Così scendiamo E vi descriviamo bene Questo Ok Fermo qui Ecco Vedete Questa strada Adesso è chiusa È chiusa Transennata E questa strada E questa strada Non solo Conduce a Carpeneto Ma conduce Sia nella strada Di San Lorenzo Di San Lorenzo Sia nella Villa Botteri E quindi Come mai E noi ci chiediamo Perché chiuderla Prima Perché Per di arrivare A Carpeneto E non dare la possibilità Di andare Nelle altre due località Ah ecco Ecco Allora Finalmente Abbiamo capito Questo Dunque Non è tanto La sbarra Che blocca la strada Perché ci vuole Ma è proprio La segnaletica Che è sbagliata Perché Come avete visto Nel cartello C'è scritto Strada interrotta Per Carpeneto Ma invece Lo sbaglio È che Questa strada Interrotta Non solo per Carpeneto Ma è proprio interrotta Perché guardate un po' Adesso Fabrizio Vi fa la ripresa Guardate Che razza di frana Ma Una frana Veramente grande Ecco perché Forse è chiusa Già Da dicembre Qui è venuta Via Molto più di mezzo Mezza strada Guardate È crollata giù tutta È scesa giù A valle E quindi Logicamente È una strada Che assolutamente Non si può percorrere Ecco allora Quindi l'unica cosa Sarebbe da sostituire Il cartello Con scritto Strada chiusa Per Carpeneto E mettere Strada chiusa Perché molte macchine Arrivano qua Pensando di poter passare Non per Carpeneto Ma per San Lorenzo E altre vie Mentre invece qui Assolutamente È impercorribile Quindi Questa è una segnalazione Per la provincia Ragazzi Cambiate cartello E con voi ci vediamo I prossimi tre minuti Bene Con questo siamo arrivati In fondo Al nostro appuntamento Con informazione Tra poco Dopo la sigla Ci sarà lo sport L'Alessandia Priva di ben sei titolari Importantissimi E infoltita di riserve I ragazzi della primavera È comunque riuscita A pareggiare L'incontro Con la Torres Gli ospiti Sono andati in vantaggio Sul calcio di rigore E poi sono stati raggiunti Da un diagonale Battuto da Iungo I grigi Intanto Sono già al lavoro Per la gara di domenica prossima A Pordenone Come vedremo Nella pagina sportiva Che andrà quindi in onda Tra poco Subito dopo la sigla Sentiremo come sarà Anche poi Il tempo Nella prossima ora E le notizie utili Grazie per l'attenzione E arrivederci Alla prossima edizione